Ciao, sono Mara del Voghera Film Festival. Oggi vi consiglio The End, l'inferno fuori, che trovate su Netflix. Il film parla di Claudio, un uomo d'affari cinico e narcisista che nel giorno più importante per il suo lavoro si ritrova bloccato in ascensore da solo. Mentre cerca di non disperarsi, si rende conto che fuori lo scenario è apocalittico, un virus letale sta trasformando le persone in esseri aberranti. Il film è diretto da Daniele Misischia, che abbiamo avuto l'onore di avere ospite e di intervistare alla scorsa edizione del Voghera Film Festival. Sperando che il film vi piaccia, fateci sapere se avete visto i film degli altri consigli che vi abbiamo dato e noi ci rivediamo alla prossima puntata del Voghera Film Festival Consiglia. Ciao!